fanciulli buongiorno dunque è passato più di un anno dall'inizio della guerra tra russia e ucraina e in quest'anno è qualcosa è stato scritto e pubblicato di tutto e di più su questo argomento dai giornali generalisti dalle riviste specializzate dai canali telegram dai canali youtube live stream approfondimenti interviste talk show lunghissimi eccetera eccetera eppure nonostante questa enorme mole di informazioni e forse anche a causa di tutta questa mole confusionare di informazioni ogni volta che parlo con delle persone che incontro dal vivo sia nei miei viaggi sia anche nelle conferenze su questo tema dove vengo invitato come relatore a certe volte dicevo quando parlo con queste persone mi accorgo che quasi nessuno di loro ha una reale idea del perché è iniziata questa guerra di che cosa è costituita quella enorme galassia di motivi recenti meno recenti addirittura molto remoti che coagulandosi insieme in maniera assolutamente infelice hanno portato allo scopo di questa guerra normalmente quando chiede a qualcuno perché è iniziata la guerra ti risponde due cose a seconda di un di come è orientato dal punto di vista delle sue idee o ti dice che è colpa della nato che si è espansa est e quindi questa cosa era una minaccia per la russia che non ha avuto alternativa che iniziare questa guerra per difendersi da una potenziale minaccia oppure ti dice che è tutta colpa di putin perché è un pazzo scatenato vuole ricostituire l'impero russo vuole distruggere il popolo ucraino eccetera eccetera ora la cosa interessante è che ciascuna di queste due risposte ha un suo fondo di verità ha una sua diciamo un suo collegamento col reale pertanto è facile che uno possa poi prenderla come spiegazione assoluta ma se uno ci ragiona un pochettino con la logica si accorge che nessuna di queste due spiegazioni può in alcun modo essere sufficiente a spiegare l'enorme casino in cui ci troviamo adesso con tutte le ripercussioni mondiali che si porta appresso ok ed è per questo che ho scelto di fare questa pippone edition per fare un po di ordine mettere insieme tutte le ragioni che stanno alla base di questa guerra ovviamente tutti i punti di vista che sono coinvolti all'interno del conflitto che sia quello russo che sia quello europeo americano che sia quello ovviamente ucraino per farvi capire un attimino la reale complessità di questa cosa e per creare un video che in qualche modo possa essere nella mia grossa ambizione diciamo una sorta di piccola ancora un piccolo porto sicuro dove uno può andare a recuperare diciamo tutte le basi diciamo di quello che sta succedendo perché se non ne comprendiamo le basi di fatto non potremo comprenderne neanche nessun esito quale che esso possa essere visto che è ancora in corso mi piace sempre fare una metafora cioè che la guerra noi siamo abituati a considerarla come il più grosso male che esista sulla terra ma se uno ci pensa bene la guerra non è la malattia in sé la guerra è il sintomo doloroso di una malattia è il momento in cui la malattia risulta evidente perché ce l'abbiamo sotto gli occhi perché piovono i missili le bombe la gente muore per le strade ok però voi immaginate per fare un paragone medico che tiro dal mio background storico è che è come c'è la guerra è come quel colpo di tosse dove ti esce del sangue che ti spinge ad andare dal medico e poi il medico ti spiega che invece c'è un tumore gigantesco ai polmoni che si è esteso a tutti gli altri organi e che però in realtà è iniziato a svilupparsi almeno magari dieci anni prima tu non te ne sei mai accorto perché non ti dava nessun sintomo evidente e te ne accorgi quando magari è troppo tardi e il sintomo ormai è troppo doloroso ecco la guerra qualunque guerra è esattamente questa cosa qua nel momento in cui esplode tutti quanti cercano di guardare quello che è successo immediatamente prima ma la realtà che il motivo per cui esplosa sovente ha le sue radici molto 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 tempo indietro e nel caso specifico della guerra tra russia ucraina trattandosi di una guerra tra due popoli dove il passato ha un'importanza centrale totalmente incomprensibile per noi europei ma per loro fondamentale se uno scava 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 inizia a trovare che questa guerra ha delle radici in eventi accaduti duecento anni fa trecento anni fa mille anni fa ok non sto scherzando non è una cosa esagerata vedrete nel corso di questo video come questa cosa ha più senso di quanto si possa immaginare prima di iniziare il mio solito ringraziamento allo sponsor che rende possibili questi approfondimenti che è Cambly una piattaforma di e-learning per imparare l'inglese attraverso lezioni a tu per tu con insegnanti madrelingua che sono disponibili sette giorni su sette 24 ore su 24 selezionabili sulla base dell'accento della personalità della specifica competenza su un certo tipo di inglesi che volete imparare e con cui potete interagire sia da desktop sia da pc che da applicazione mobile la cosa veramente bella di Cambly è che offre un'esperienza totalmente personalizzabile sulle vostre necessità per cui è assolutamente adatto a qualunque livello di inglese che sia principiant intermedio avanzato you name it insomma no oltretutto di recente si è aggiunta la possibilità di imparare non solo attraverso lezioni a tu per tu quindi one to one ma anche in piccoli gruppi con altri studenti che vengono da altre parti del mondo quindi avendo la possibilità di interagire con altre persone praticando delle conversazioni basate insomma sul mondo reale insomma delle cose che poi usate veramente quando uscite dalla lezione grazie a questa partnership avete diritto a uno sconto del 55 per cento su tutti i piani annuali che tradotto significa 13 euro 99 al mese più o meno a cui si aggiungono ovviamente i soliti 15 minuti di lezione di prova gratuita per sapere se fa per voi oppure no e in aggiunta a tutto questo con i piani annuali vi viene anche regalata una guida dettagliata su come sostenere un colloquio di lavoro in inglese che per qualcuno di voi può essere molto importante come al solito per accedere a tutto questo cliccate sul link che trovate qui in descrizione e usate il coupon tiozzo spring al checkout perché è primavera e spring is in the air ok quindi detto questo torniamo a noi e tuffiamoci nelle profondità di tutte quelle che sono le molteplici cause che hanno portato allo scoppio della guerra tra russia e ucraina dunque come vi dicevo le cause sono tante ma se dovessimo trovarne una che è più importante di tutte le altre e che nei tempi recenti diciamo copre una buona fetta delle ragioni che hanno portato all'inizio della guerra questo è sicuramente il fallimento da parte di tutti gli attori coinvolti nel trovare un accordo sugli equilibri securitari in europa detto in altri termini il fallimento da parte russa e la non volontà da parte americana di considerare la russia un interlocutore legittimo all'interno delle trattative diplomatiche cioè un interlocutore che ha diritto a esporre un proprio interesse a esporre delle proprie necessità dei propri timori che vengono sostanzialmente ascoltati e presi in considerazione dalle controparti questa cosa non si è voluta fare da parte occidentale non si è riusciti a farla da parte russa perché è bene ricordare che laddove non c'è stata una volontà occidentale c'è anche stato un fallimento dal punto di vista della comunicazione del cosiddetto soft power da parte russa e di conseguenza la russia ha visto in tutto questo una minaccia al proprio ruolo nel mondo una perdita di prestigio a livello internazionale che possiamo diciamo sintetizzare con la frase famosa di barack obama che disse che la russia era una potenza regionale non più una potenza mondiale e la guerra come è sempre stato nella storia dell'umanità è il modo in cui le grandi potenze cercano di affermare se stesse battendo i pugni sul tavolo detto per usare una metafora ovviamente è molto più grave di così questa appunto come vi dicevo è la causa più importante quella che nei tempi recenti ha svolto diciamo la parte del leone all'interno delle cause di questo conflitto ma appunto non può in alcun modo essere l'unica perché oggettivamente non basta spiegare il perché questa guerra è iniziata in quel momento lì e in quel posto lì il fatto che la russia fosse considerato un interlocutore di secondo grado è una cosa che ci portiamo avanti dalla fine della guerra fredda perché proprio adesso e proprio in ucraina è dovuta scoppiare questa guerra ovviamente ci sono molte altre motivazioni che unite al fallimento del raggiungimento di un accordo sugli equilibri sicuritari rendono conto di un puzzle che è decisamente più complesso in tutto questo ovviamente ha un ruolo enorme l'allargamento della nato ai paesi dell'europa orientale ora cerchiamo di fare un po' di chiarezza su questo argomento che è il secondo motivo diciamo di 10 che ne ho voluti trovare all'interno di questa di questa guerra spesso sentite parlare del fatto che la nato si è espansa verso oriente ma la nato non è un organismo autonomo che si espande come si espande uno stato che conquista dei territori in modello risico la nato è un'organizzazione a cui si accede su richiesta per cui tutti i paesi che sono entrati a far parte della nato dell'europa orientale avevano assolutamente il diritto di farlo e questa normalmente è la principale obiezione che si sente fare una persona che dice che la guerra è iniziata perché la nato si è espansa a est perché appunto cos'è i paesi dell'europa orientale non hanno forse diritto di avere una protezione militare con tutto quello che hanno dovuto patire rispetto all'unione sovietica eccetera certo questa è una cosa assolutamente logica e tutti i paesi che hanno fatto domanda per entrare nella nato inclusa la finlandia che c'è entrata qualche giorno fa definitivamente avevano eccome il diritto di fare domanda di entrare a far parte nella nato ma il punto non sta sui paesi che hanno fatto domanda il punto risale a quel momento della fine degli anni 90 quando il presidente clinton decise di aprire le porte della nato anche ad altri paesi perché fino a quel momento lì la nato era insomma un'organizzazione che aveva la sua struttura aveva perso sostanzialmente il suo senso di esistere perché non esisteva più l'unione sovietica quindi non esisteva più il nemico contro cui era stata costruita la nato e la russia di quegli anni era ridotta a un colabrodo sostanzialmente ma in quegli anni lì nonostante tutto questo clinton presa una decisione di allargare le porte della nato a chiunque volesse farci ingresso ovviamente non è un mistero spiegare il perché tutti i paesi dell'europa orientale abbiano cercato di ottenere quella protezione perché appunto sapevano che cosa voleva dire stare sotto il gioco russo negli anni precedenti ed era una forma di assicurazione sul futuro cosa che poi si è rivelata assolutamente corretta no tuttavia proprio quella decisione di allargare le porte della nato di permettere a paesi un tempo nell'orbita russa e sempre più vicini alla russia territorialmente parlando di entrare all'interno di un'eleanza militare che formalmente difensiva come noi tutti sappiamo ma che poi nella pratica non lo è allora questa decisione costituisce una forma di aggressione passiva alla russia che assolutamente legittimamente ha diritto a sentirsi almeno potenzialmente minacciata da questo da questo allargamento tuttavia un'obiezione che viene fatta molto spesso è la seguente sì ma la nato è appunto un'eleanza difensiva ma a chi è che sarebbe mai venuto in mente di attaccare la russia nessuno aveva realmente intenzione di attaccare la russia tanto più che questa paura dei russi di avere la nato ai propri confini era una cosa assolutamente poco razionale in relazione alla questione ucraina perché perché la russia già confina da parecchi anni con la nato e già ci confinava ai tempi dell'unione sovietica perché ricordiamo che la norvegia confina con la russia ed è un paese nato perché i paesi baltici lituania lettonia ed estonia sono già parte della nato da due decenni e non costituiscono in alcun modo una minaccia per la russia perché addirittura già ai tempi dell'unione sovietica la turchia era un paese ai confini dell'unione sovietica perché ai tempi l'unione sovietica comprendeva armenia georgia azerbaijan che appunto voi sapete no con una cartina alla mano che sono esattamente ai confini proprio la turchia ci aiuta a capire un aspetto fondamentale della questione nato vicinanza con la russia cioè la turchia fu la causa diciamo dell'inizio della crisi di cuba cioè i missili a cuba vennero messi come ritorsione per alcuni missili messi in turchia proprio ai confini con l'unione sovietica quella crisi come tutti sappiamo venne risolta togliendo i missili da cuba e togliendo i missili dalla turchia ora un paese può benissimo fare parte della nato senza avere sul suo territorio delle strutture militari che minaccino direttamente l'esistenza della russia ed è appunto il caso di norvegia lettuania lettonia ed estonia che non costituiscono una minaccia reale e diretta verso il paese chi ci impedisce di pensare che l'ucraina non avrebbe potuto essere un altro esempio di questo tipo cioè semplicemente un paese che voleva proteggere se stessa dalla minaccia russa ovviamente concreta per quel che riguarda tutti gli eventi da post 2014 senza per questo motivo andare a costituire una minaccia di rimbalzo ora però tutte queste obiezioni perfettamente sensate che vengono fatte circa la vicinanza della nato al confine russo mancano però di considerare due aspetti fondamentali numero uno che noi fino a prova contraria non possiamo sapere quale fosse l'intenzione della nato all'interno dell'ucraina cioè probabilmente questa cosa avrebbe davvero costituito una minaccia ovviamente non lo sapremo mai resterà nel nei punti interrogativi della storia perché appunto si è preso un bivio che va verso una direzione specifica ma il secondo aspetto che in realtà è molto più facile da capire è il fatto che l'ucraina costituisce la goccia che fa traboccare il vaso e quando una goccia fa traboccare il vaso non ci dobbiamo concentrare solo sulla goccia di per sé ma su tutto quello che si è accumulato di sotto appunto un paese dopo l'altro sempre più vicini sempre più vicini eccetera eccetera soprattutto e questa è la cosa in realtà più importante un paese l'ucraina che più di tutti gli altri paesi quindi più dei paesi baltici più anche della finlandia che è centrata adesso è un paese che costituisce la memoria storica della russia costituisce una profonda parte dell'identità di questo paese di questo popolo anche della sua posizione nel mondo in termini di grande potenza e di conseguenza rappresentava un affronto simbolico molto più grave di qualunque altro paese che avesse deciso di unirsi alla nato sia in questi anni che negli anni a venire e la prova di tutto questo noi ce l'abbiamo con l'ingresso definitivo della finlandia nella nato che si costituisce una potenziale minaccia si costringerà i russi probabilmente a prendere delle misure di precauzione su un confine lunghissimo impegnerà probabilmente molte più risorse dal punto di vista militare perché è una potenziale minaccia ok sì ma non costituisce ad oggi ed io non voglio in futuro una reale minaccia al punto tale da spingere putin ad avviare un'operazione militare per la denazificazione e la demilitarizzazione della finlandia tutto questo non è minimamente nella logica delle cose eppure se uno vuole affidarsi alla narrazione per cui putin ha invaso l'ucraina perché minacciava di entrare nella nato allora mi dovrebbe spiegare perché non invade la finlandia perché non se ne parla neanche di questa cosa perché non c'è nessun motivo per farlo la ragione è questa qua i rapporti storici tra ucraina e russia e tra finlandia e russia sono molto diversi ci ho fatto un video sui rapporti tra russia e finlandia vi consiglio di andarvelo a recuperare perché lo trovo molto interessante comunque per concludere questa parte dedicata alla nato il problema di per sé non è la nato in senso assoluto il problema era la nato in ucraina e su questo si innesta il terzo motivo per cui questa guerra è iniziata cioè il fallimento degli accordi di minsk cioè quegli accordi di pace che vennero stipulati allo scoppio della guerra civile in ucraina nel 2014 sarebbe lungo andare a ripercorrere tutti gli eventi però ricordiamoci che con il cambio violento di governo a kiev nel 2014 chiamatelo rivoluzione chiamatelo colpo di stato come preferiti ma questo è stato cioè un cambio di regime violento basato su proteste di piazza infiltrate da organizzazioni di estrema destra che hanno trasformato delle proteste che fino a quel momento erano pacifiche in guerriglia complice anche l'ingenuità del presidente jenukovic del tempo facendo precipitare la situazione interna dell'ucraina verso un'atmosfera da guerra civile in quel contesto come voi ben sapete c'è stata poi l'annessione della crimea alla russia gli scontri tra manifestanti pro governo filorusso quello pro governo filoeuropeista molto violenti la strage di odessa poi in donbass appunto la costituzione di queste due repubbliche autonome che non volevano più avere a che fare col governo centrale e da lì il governo centrale poi in mesi immediatamente successivi ha risposto inviando l'esercito dando inizio alla guerra civile in donbass questa guerra civile dove i russi hanno supportato attivamente i separatisti con armi soldati mercenari eccetera e che ha causato migliaia di morti è stata messa lì per lì a tacere con i primi accordi di minsk che una volta falliti hanno portato i cosiddetti accordi di minsk 2 che sono stati sottoscritti sia dall'ucraina che dalla russia ma cosa molto importante vedevano come garanti internazionali la francia e la germania molto interessante che in quest'anno di guerra sono uscite tre dichiarazioni assolutamente importanti da questo punto di vista rispettivamente da petro poroshenko angela merkel e francois holland che ai tempi di quegli accordi erano rispettivamente il presidente dell'ucraina il cancelliere tedesco e il presidente francese per cui i responsabili della firma di questo accordo dal lato occidentale l'altro ovviamente era putin poroshenko merkel e holland tutti e tre in momenti diversi in interviste diverse attestate diverse hanno detto che gli accordi di minsk servivano esclusivamente a prendere tempo cioè a far a dare tempo all'ucraina per costruire un esercito più forte con l'obiettivo di lungo termine innanzitutto di difendersi da una possibile ulteriore aggressione russa ma soprattutto di andare a risolvere con la violenza in maniera definitiva la questione in donbass con le repubbliche separatiste e riprendersi a forza la crimea ora gli accordi di minsk sono stati violati più volte da entrambi i firmatari russi e ucraini nel corso di questi otto anni perché una volta si riapriva il fuoco perché ogni volta insomma non era mai stata una vera pace tuttavia il fatto che il non voler rispettare questi accordi dal lato occidentale sia stata assolutamente un'intenzione ormai non è più un argomento della propaganda russa è un fatto acclarato per dichiarazione stessa dei firmatari di quell'accordo ok per cui quando noi riprendiamo le dichiarazioni di putin a inizio a inizio guerra parliamo di aprile maggio se non ricordo male quando disse che questa guerra comunque sarebbe iniziata lo stesso però in futuro in condizioni peggiori per la russia per cui dal suo punto di vista tanto valeva iniziarla adesso per avere più chance di vincerla nel momento in cui noi sentiamo quella dichiarazione pensiamo ok putin tira acqua al suo mulino non dobbiamo ascoltare quello che dice ma se poi le sommiamo con le dichiarazioni di merkel hollande poroshenko allora capiamo che forse un fondo di verità in tutto questo c'era e non possiamo non considerare questa cosa come una delle più profonde cause di questa guerra cioè il fatto che in ucraina ci fosse una guerra civile sostenuta da un regime profondamente nazionalista che aveva nel centro del suo milino la popolazione filorussa di quelle regioni che nessuno degli attori in gioco e soprattutto gli stati esterni francia e germania che avrebbero dovuto fare da garanti all'interno di queste cordi di pace aveva in realtà un reale interesse a far finire ora su questi primi tre motivi di cui vi ho parlato quindi fallimento nel trovare equilibri di sicurezza allargamento della nato fallimento degli accordi di minsk si innestano inevitabilmente delle responsabilità personali dei politici che hanno preso delle decisioni in questo contesto qua decisioni che naturalmente non erano scontate non erano automatiche e sono strettamente riconducibili appunto alle personalità coinvolte queste personalità sono ovviamente Putin Biden e in misura meno importante a mio modo di vedere il presidente ucraino Zelensky perché in tutto questo una delle grandi tragedie di tutta questa faccenda è che quella che viene spacciata come grande autonomia decisionale ucraina in realtà non è poi così reale in quanto tutte le decisioni prese da Zelensky dall'inizio della guerra sono in qualche modo subordinate a una volontà americana di per sé io sono personalmente convinto che Zelensky avesse di suo un reale e genuino desiderio di porre fine alla guerra in Donbass ha basato tutta la sua campagna elettorale su questo è la prima cosa che ha detto una volta che si è insediato in Parlamento addirittura fino a pochi giorni prima dello scopo della guerra quando ormai la tensione era alle stelle disse pubblicamente di volersi impegnare a far rispettare questi questi accordi salvo poi cambiare idea per qualche motivo che non sappiamo esattamente il giorno successivo quindi inevitabilmente le responsabilità principali ricadono su Putin e Biden su quest'ultimo è importante segnalare come fin dal momento in cui lui si è insediato la casa bianca l'atteggiamento degli stati uniti verso la Russia ha cambiato completamente marcia vi ricorderete che una delle primissime cose che fece Biden è dare dell'assassino a Putin vi ricorderete che nel corso di tutto quanto il 2021 quindi il primo anno della presidenza di Biden si è consumata tutta quella grande escalation politica che ha messo Putin e Biden in rotto di collisione uno contro l'altro e quindi con gli stati uniti che spingevano sempre di più per l'adesione dell'Ucraina alla Nato dall'altra parte Putin che parlava di linee rosse invalicabili minacciava reazioni tremende ora quello che sto per dirvi è naturalmente opinabile perché non è in alcun modo dimostrabile però io personalmente sono convinto che ci fosse stato un altro presidente al posto di Biden non si sarebbe arrivati a questo tipo di escalation e allo stesso modo ci fosse stato un altro presidente al posto di Putin probabilmente non si sarebbe arrivati a questo scontro testa a testa anche questo non lo sapremo mai però è assolutamente sotto gli occhi di tutti che da quando è arrivato Biden l'atteggiamento degli stati uniti nei confronti della Russia ha cambiato nettamente marcia diventato molto più aggressivo molto più potenzialmente minaccioso e dal momento che Putin non è quel tipo di interlocutore che reagisce in maniera passiva a questo genere di minacce di provocazioni allora la cosa non ha fatto altro che ulteriormente accendersi per poi esplodere nella guerra conclamata che lo ricordiamo ancora una volta sì è una guerra che riguarda russi ucraini sì è una guerra che si combatte tra Russia e Ucraina ma come vedremo da qui alla fine del video è una guerra che riguarda principalmente Russia e Stati Uniti e di questa cosa ormai abbiamo tutte le prove che servono perché da un anno a questa parte non c'è stato neanche una forma di colloquio reale tra russi ucraini ma esclusivamente tra russi e americani tutta la dialettica tutti gli scontri a distanza le dichiarazioni le esternazioni le propagande eccetera sono russi contro americani americani contro russi naturalmente Biden e Putin sono però il punto di arrivo terminale di una lunga traiettoria storica americana e russa che culmina con queste due personalità ma che ha origine inevitabilmente qualche anno fa e che ci rende conto del quinto e del sesto motivo che stanno alla base di questa guerra partiamo dagli Stati Uniti il quinto motivo per cui questa guerra è scoppiata è il cambio di atteggiamento internazionale degli Stati Uniti al termine della guerra fredda di fatto nel momento in cui gli Stati Uniti si sono trovati senza un nemico ufficiale quindi col crodo dell'unione sovietica si sono trovati ad essere gli unici padroni del mondo essenzialmente sono caduti nella tentazione della tracotanza quando facevo il liceo classico si chiamava hubris cioè questa tentazione che l'uomo ha specialmente se in posizione di vantaggi in qualche modo a imporre a tutti i costi il proprio dominio e la propria volontà su tutti gli altri un atteggiamento che negli anni 90 è passato in qualche modo sotto traccia ma che poi dagli anni 2000 in poi è diventato eclatante e che ha contribuito in maniera fondamentale alla distruzione dell'ordine internazionale che c'era fino a quando c'era anche l'unione sovietica vale a dire quell'ordine internazionale dove una grande potenza non poteva fare quello che voleva senza prima considerare come avrebbe reagito l'altra superpotenza o le altre superpotenze in questo senso abbiamo visto gli stati uniti lanciarsi in una serie di guerre fregandosene completamente del parere delle nazioni unite inventando clamorosamente delle menzogne che poi non hanno avuto neanche nessun tipo di vergogna ad ammettere come menzogna qualche anno dopo perché appunto erano loro gli unici padroni del mondo perché potevano fare quello che volevano e nessuno avrebbe detto niente in contrario è un argomento questo che ho esposto più nel dettaglio nel mio video dedicato ai 30 anni post unione sovietica ma giova a ricordare il fatto che nei 20 anni di presidenza di putin in una prima fase putin voleva coinvolgere la russia nel controllo del mondo insieme agli stati uniti voleva fare sì che ci fosse una collaborazione addirittura la russia richiesto di entrare a far parte della nato questo uno dei grandi paradossi no il che ci riporta al motivo numero uno cioè il fallimento di coinvolgere la russia all'interno degli equilibri di sicurezza del mondo ecco gli stati uniti si sono sempre rifiutati di fare questa cosa hanno sempre fatto di testa loro hanno lanciato guerra in tutte le parti del mondo a un certo punto putin si è accorto che con gli americani non c'era dialogo che un mondo governato esclusivamente degli americani era un mondo potenzialmente pericoloso e col suo famoso discorso nella conferenza di monaco del 2007 cambia la traiettoria della russia sempre all'interno di questo atteggiamento si colloca la decisione di clinton di aprire le porte della nato ai paesi dell'europa orientale perché il vero motivo per cui è stata fatta questa cosa era approfittare di un momento di debolezza assoluta della russia per posizionarsi ai suoi confini e fare in modo che la russia non sarebbe più stata una minaccia in futuro di conseguenza c'è una sorta di similitudine tra quello che è accaduto negli anni 90 con il crollo dell'unione sovietica e quello che è accaduto nel 1918 dopo il trattato di versailles dove la germania sconfitta nella prima guerra mondiale venne umiliata sostanzialmente e da questa cosa poi è partito tutto quello che ha portato alla seconda guerra mondiale non avendo imparato questa lezione della storia gli stati uniti obnubilati da questa hubris da questa tracotanza hanno cercato di fare tutto il possibile per chiudere la russia all'angolo non necessariamente con l'intenzione di distruggerla anche se qualcuno biden soprattutto aveva esattamente questo tipo di desiderio ma quantomeno con le intenzioni di renderla assolutamente innocua per gli anni a venire una cosa però importante che io tiro sempre fuori quando si parla di questo argomento è quella che possiamo chiamare ormai una vera e propria profezia del diplomatico george kennan che fu l'autore della strategia di contenimento tra unione sovietica e stati uniti che ha portato sostanzialmente all'equilibrio nella guerra fredda parliamo degli anni 50 che nel 97 quando clinton prese la decisione di aprire le porte della nato ad altri scrisse questo famoso articolo sul new york times dal titolo un errore fatale profetizzando il fatto che questa cosa avrebbe portato a un conflitto con la russia nel medio termine ma prima di passare al prossimo punto delle cause della guerra voglio tirare fuori una profezia un po meno conosciuta se vogliamo che è il perfetto collegamento con il punto successivo e cioè un'intervista rilasciata da nixon nei primi anni 90 quando commentava quello che stava accadendo in russia dopo il corrodo dell'unione sovietica nixon per fare una sintesi diceva che in questo momento si stava cercando di esportare i valori della democrazia liberale in russia in un paese che non li aveva mai conosciuti fino a quel momento portare i valori del capitalismo portare tutto ciò che era l'occidente fino a quel momento per far sì che la russia sostanzialmente diventasse un altro dei paesi occidentalizzati in quella circostanza nixon disse che se non ci riusciremo cioè se questi valori se questi ideali non attecchieranno nel popolo russo allora assisteremo verosimilmente a una rinascita dell'imperialismo russo che è un sentimento che è sempre stato presente nella russia in tutte le sue forme sia in quella imperiale che in quella sovietica nixon aveva assolutamente ragione il che ci porta al punto 6 ci ricolleghiamo al punto 4 con le responsabilità di biden che sono una conseguenza delle decisioni americane degli anni prima allora le responsabilità di putin sono esattamente una conseguenza del passato russo che ritorna esattamente come in qualche modo profetizzato tra virgolette da nixon in quell'intervista di cui vi parlavo poco fa il punto qual è in russia il passato ha un'importanza centrale ha un'importanza che noi in occidente non possiamo minimamente capire perché la visione che hanno i popoli slavi in generale vale anche per l'ucraina è questa cosa ma poi ci arriviamo tra poco all'ucraina perché dedichiamo l'ultima parte del video ovviamente a loro che sono il popolo in assoluto più colpito da questa situazione tremenda comunque tutti i popoli slavi hanno una visione del proprio passato assolutamente ossessiva conoscono la loro storia a menadito voi con chiunque qui a mosca potete parlare di eventi accaduti 200 300 anni fa e ve ne parlano con una tranquillità assoluta come se fosse argomento di conversazione da bar giusto l'altro giorno ho visto uno sketch su una tv comica qui in russia dedicato proprio all'attualità geopolitica dove c'erano degli attori che rappresentavano putin biden e erdogan che facevano una partita a scacchi dove putin e biden giocavano a scacchi e erdogan stava in mezzo parlava un po con uno un po con l'altro si parlava si alludeva evidentemente all'ucraina e biden diceva no vogliamo che sia nostra e putin diceva no è sempre stata nostra e l'attore che faceva erdogan dice ma in realtà sarebbe stato un pochino anche nostra ora questa battuta uno spettatore la può capire solamente se sa che i territori che oggi sono oggetto di guerra quindi l'ucraina del sud la crimea eccetera sono stati conquistati da caterina la grande a scapito dell'impero ottomano ma tre secoli fa questa cosa il fatto che la presenza storica dei turchi in ucraina venga addirittura usata come elemento per fare uno sketch all'interno di una di un programma comico superficiale di per sé vi fa capire un pochettino meglio forse quanto davvero il passato conti qui altra cosa che dico sempre quando c'è stata la pandemia quindi una minaccia che arrivava da est una cosa insolita per i russi perché normalmente le minacce per loro arrivano da ovest però putin in un suo discorso pubblico tirò in mezzo che cosa l'ultima volta che è arrivata veramente una minaccia da est cioè i cumani e i peceneghi una popolazione che invase la parte meridionale della russa di kiev ma parliamo del medioevo cioè putin per parlare della del fatto che i russi secondo lui supereranno la minaccia della pandemia chiama a suo a suo vantaggio diciamo in un discorso pubblico una cosa accaduta 800 anni fa e quando si parla dell'ucraina l'ucraina è importante perché il posto dove mille anni fa tutti i popoli slavi passarono al cristianesimo e quando si parla delle questioni legate alle contese territoriali putin che cosa fa giugno dell'anno scorso si paragona attivamente a pietro il grande vale a dire lo zar che andò a riconquistare delle terre che erano in mano agli svedesi al tempo e che la russia considerava come il suo territorio storico ora se noi queste cose la trasportiamo nei nostri valori occidentali noi non la capiamo minimamente perché non ci verrebbe mai neanche lontanamente di andare a ragionare i rapporti tra che ne so italia e francia sulla base del fatto che tre secoli fa una parte del nostro territorio era francese una parte del loro era nostro ok perché sono cose del passato sono cose di cui noi ci siamo abbondantemente dimenticati ma in russia questa cosa non accade per cui l'importanza del passato e di tutto ciò che questo significa sulla retorica nazionale è un argomento che inevitabilmente va a confluire nelle personalità che sono a capo di questo stato putin non è diciamo prodotto di se stesso putin è un prodotto il prodotto di un sistema di una cultura che ragiona in una certa maniera non so se mi sono spiegato di conseguenza il fatto che la russia abbia questa visione di sé è una causa di questa guerra perché se i russi non avessero questa visione ossessiva della storia di sé nel loro spazio non attecchirebbe in alcun modo la narrazione che invece attecchisce in maniera straordinariamente efficace secondo cui le regioni del donbass sono i nostri territori storici sono sempre stati russi principalmente ci abitano i russi e quindi ci dobbiamo andare noi non ci devono stare altri non ci devono stare i nostri nemici a questo punto passiamo al punto 7 finalmente come è giusto che sia parliamo dell'ucraina perché il popolo ucraino è un popolo slavo è un popolo imparentato in mille modi col popolo russo spesso si è detto russi ucraini sono popoli fratelli e uno poi dice ma come mai se sono fratelli perché si fanno del male essere fratelli non vuol dire volersi necessariamente bene essere fratelli significa essere figli della stessa madre per cui la russ di kiev il primo stato slavo importante dell'europa orientale nella storia essere fratelli significa condividere un background culturale significa condividere una grossa quantità di vicende storiche piacevoli o non piacevoli a seconda dei casi significa condividere un background culturale un sistema di valori e sostanzialmente vedere il mondo più o meno nello stesso modo ecco una cosa che è particolarmente grottesca della comunicazione che viene fatta sulla guerra è presentare gli ucraini come un popolo totalmente affine ai valori europei occidentali la realtà è che no sono molto più affini ai valori russi sono molto più simili tra di loro ed è anche per questo che si stanno facendo la guerra ed è anche per questo che la guerra accade in ucraina e non accade da altre parti dove i popoli non hanno tutto questo background da spartire nella fattispecie il passato com'è che ha un ruolo importante per gli ucraini tanto per cominciare perché questa guerra altro non è che la riproposizione in salsa moderna e decisamente più tragica di guerre che sono già avvenute in passato esattamente nella stessa maniera cioè la guerra civile post prima guerra mondiale in russia che ha dato poi origine all'unione sovietica è stata una guerra che si è combattuta essenzialmente in ucraina una guerra dove l'armata rossa ha combattuto contro la prima ucraina autodichiaratasi indipendente l'ucraina di simon pletura è una guerra che oltretutto riporta a galla tutti i sentimenti legati alla seconda guerra mondiale all'invasione nazista dell'unione sovietica dove una buona parte degli ucraini finì per collaborare con i nazisti per liberarsi dal gioco sovietico e invece dall'altra parte una buona parte dei cittadini ucraini combatte nelle file dell'armata rossa direi la maggior parte al tempo oltre a questo poi ci sono tutta una lunga serie di motivi di risentimento storico da parte del popolo ucraino nei confronti del popolo russo che inevitabilmente pesano e vanno a confluire su questa guerra sono ovviamente l'olodomor la carestia degli anni 30 di cui si è parlato moltissimo ma anche la repressione delle etnie non russe successive all'insurrezione polacca del 1863 ma anche i rapporti controversi tra i cosacchi ucraini e lo zar di russia nel contesto del conflitto tra diciamo il popolo ucraino nascente e il popolo polacco che era un nemico al tempo a metà del 1600 eccetera eccetera possiamo andare indietro fino anche al momento in cui nella metà 1200 il gran ducato di moscova invase chieve distrusse completamente la città insomma gli ucraini nei confronti dei russi hanno mille un motivo di risentimento e teoricamente anche una grossa serie di motivi per avere una sorta di gratitudine nei loro confronti ovviamente in questo momento è inutile parlarne perché non ci sono orecchi in credo di sentire questa cosa qua però il punto qual è è che questa guerra qui per gli ucraini è una guerra di tipo risorgimentale è una guerra dove loro stanno determinando o provando a determinare una volta per tutte il loro diritto di stare al mondo indipendenti la guerra che stanno combattendo gli ucraini in questo momento dal loro punto di vista è una guerra che assomiglia moltissimo a quelle che noi italiani abbiamo combattuto contro l'austria ora quando noi italiani pensiamo alle tre guerre di indipendenza non pensiamo una cosa orribile perché la guerra è una cosa orribile pensiamo al mito dell'italia che si libera dall'oppressore e in qualche modo garantisce la propria indipendenza all'interno del mondo fa parte del mito fondante della nostra nazione naturalmente come vi dicevo prima per noi italiani il passato non conta tantissimo per cui noi non pensiamo tanto alle guerre di indipendenza anzi la maggior parte delle persone non sa neanche che ci sono state tre guerre di indipendenza ma in russia in ucraina non funziona così è in ucraina in questo momento ci si sta giocando quello che dovrà essere il mito fondante della futura nazione ucraina cioè la resistenza contro i russi la capacità militare di un popolo di respingere il loro storico oppressore questa è una cosa fondamentale per comprendere le motivazioni ucraine all'interno di questa guerra è una cosa fondamentale per capire come mai gli ucraini non vogliono in alcun modo cedere neanche un centimetro di terreno perché se uno analizza le cose da un punto di vista logico in qualche modo pragmatico si potrebbe tranquillamente dire che questa guerra avrebbe mille soluzioni possibili si potrebbe trovare un accomodamento da una parte o dall'altra si poteva trovare anche prima ma uno dei motivi per cui non si è trovato e non si trova e verosimilmente si troverà esclusivamente con la violenza è appunto questo cioè quello che gli ucraini hanno come posto in gioco all'interno di questa guerra che non può non essere considerato perché così come tutti gli altri popoli che hanno determinato la propria libertà e la propria indipendenza sulla base della violenza sulla base della guerra questa cosa inevitabilmente è un passaggio quasi obbligato anche per loro in questo frangente storico se voi guardate tutte le bandiere del mondo degli stati del mondo che comprendono il colore rosso questo colore rosso rappresenta sempre la stessa cosa cioè il sangue versato dai martiri per la patria questa è una specie di legge universale delle nazioni perché le nazioni nascono su base violenta e dal momento che l'ucraina faceva parte di un impero che era l'unione sovietica e ne è diventata indipendente per suicidio dello stesso impero ma in questo momento impero che è una sorta di regurgito per i motivi che vi ho detto prima questa è la loro guerra risorgimentale una cosa che è stata detta molto spesso è che putine si è lanciato in una guerra di tipo ottocentesco e questa cosa è vera cioè non è una cosa denigratoria è realmente una guerra che ha delle caratteristiche ottocentesche ma ce l'ha anche dal punto di vista ucraino perché il nazionalismo il risorgimento per come noi ce lo immaginiamo è un fenomeno che in europa si è svolto in quel secolo là e che in questa parte di mondo semplicemente si sta svolgendo dal 1991 in poi cioè da quando è crollato l'impero che governava quella parte di mondo tuttavia è superfluo sottolineare che non siamo nell'ottocento siamo nel 2000 e che il mondo al netto delle controversie tra popoli funziona in maniera diversa funziona con regole molto più globalizzate dove l'economia ha un ruolo centrale e l'economia ha un ruolo centrale anche in questa guerra diciamo che è l'ottavo motivo per cui è partita questa guerra non serve dilungarsi su quanto il gas e le materie prime abbiano un ruolo centrale in questa guerra il gas nel suo tragitto dalla russia all'europa il grano prodotto in ucraina che è l'unica cosa su cui si è trovato un accordo per il momento per farlo uscire ed è parte essenziale essenzialmente del discorso diplomatico che va avanti di nascosto al netto dei combattimenti e oltre a questo anche la grande ricchezza del sottosuolo in donbass che era la regione più ricca di tutta l'ucraina e che è irragionevole credere che sia un caso il fatto che i russi abbiano ambizioni su quella parte di territorio che combinazione è proprio quella con gli sbocchi al mare combinazione è proprio quella da cui si controlla il commercio combinazione è quella anche con le acciaierie le industrie più importanti di tutto un paese è importante segnalare che questi motivi economici non sono così espliciti come dovrebbero essere in qualche modo sono come dire molto sotto banco e in questo momento è difficile analizzarli in maniera oggettiva ma inevitabilmente sono una parte importante più importante ancora però non è tanto l'economia legata alla ricchezza del territorio in sé quanto ai rapporti economici geopolitici globali il nono motivo che è forse uno dei più importanti forse più importante ancora di tutti quelli che vi ho detto prima escluso il primo è il fatto che in conseguenza di questo cambio di posizione russa nel 2007 dove essenzialmente Putin è iniziato a opporsi allo strapotere americano sul mondo si è iniziata a coltivare la visione di un mondo che non avesse un solo padrone ma che avesse più centri di potere isolati tra di loro il cosiddetto mondo multipolare questa cosa ha iniziato a prendere piede dal 2008 con la grande crisi finanziaria negli Stati Uniti che ha impattato su tutto il resto del mondo manifestando tutti i limiti del capitalismo finanziario questa cosa poi ha iniziato a prendere piede soprattutto con l'ascesa di un colosso economico ovvero la Cina e non dobbiamo dimenticarci che l'invasione russa dell'Ucraina avveniva in un momento dove gli Stati Uniti erano al minimo storico del loro prestigio internazionale per via di quello che era avvenuto in Afghanistan nell'estate del 2021 con quella ritirata disastrosa dove sostanzialmente gli Stati Uniti dopo 20 anni di guerra inutili in un territorio altrettanto inutile avevano rimediato una pesante figuraccia restituendo il paese in mano ai talebani come vi ho già detto molte volte la storia dell'umanità viene composta da decisioni azzardate scommessi che vanno bene scommessi che vanno male e indubbiamente quando Putin ha deciso di lanciare questa invasione aveva assolutamente nella sua testa l'idea che questa cosa avrebbe potuto costituire una spallata in qualche modo definitiva al dominio americano sul mondo lì per lì si è sbagliato perché anzi dal punto di vista occidentale questa cosa ha creato un rinforzamento improvviso degli Stati Uniti che ad oggi sono quelli che stanno guadagnando di più in assoluto dalla guerra sia come posizione internazionale che come controllo militare dell'Europa che come indebolimento della Russia per essere stati in grado di imporre all'Europa tutta una serie di sanzioni che fanno male ad entrambi che comunque tagliano nettamente un cordone umbilicale economico che garantiva la prosperità economica dell'Europa grazie alle forniture energetiche della Russia ok ci sarebbe molto da discutere su questo anche sull'attentato al Nord Stream però tutto questo in qualche modo fa parte di quello che ho già detto prima cioè la postura americana sul mondo e il tentativo di tagliare fuori la Russia da qualunque altra cosa ma dal punto di vista russo ben consapevole che esiste tutto un mondo al di fuori di quella che noi chiamiamo comunità internazionale e che comprende Europa Nord America e Oceania essenzialmente ma tutto il resto del mondo ne ha le scatole piene dello strapotere americano sul mondo del modo in cui l'America ha imposto il suo potere con la violenza con le imposizioni in diverse parti del mondo in questo senso in qualche modo Putin ha provato a investirsi del ruolo di capitano assoluto del sentimento anti americano con l'ideale neanche troppo utopistico di guidare una sorta di movimento mondiale per spezzare il dominio americano e appunto creare dei blocchi autonomi per conto loro che non debbano necessariamente stare allo strapotere americano allo strapotere del dollaro in tutto questo come non menzionare i rapporti tra Russia e Cina allora qualche giorno fa qualche settimana fa è arrivato qui a Mosca Xi Jinping c'è stata una visita molto importante molto lunga dove Russia e Cina hanno preso una serie di accordi molto importanti qui in Russia se ne è parlato tantissimo come un evento epocale in occidente è stato molto molto minimizzato è stato anzi visto come essenzialmente una perdita di prestigio da parte russa però quello che è importante segnalare è che questo tentativo di spezzare il dominio americano sul mondo sta andando avanti e in questo momento sta avendo in prospettiva successo perché è notizia di questi ultimi mesi che lo yuan la moneta cinese sta sostituendo il dollaro in una serie di scambi chiave per l'economia mondiale non solo per quel che riguarda la Russia per vedere le sanzioni ma anche per quel che riguarda gli scambi commerciali con il Medio Oriente per quel che riguarda il petrolio quindi anche questo è uno dei motivi della guerra cioè il desiderio russo di spallare via gli americani dal trono del mondo è inevitabilmente il bisogno americano anche comprensibile di evitare che questa cosa accada certamente possiamo discutere a lungo se sia opportuno il modo in cui questa cosa sta avvenendo se non ci fosse stato un modo più intelligente di ottenere risultati simili più convenienti per tutti in maniera diversa ma la storia non segue queste logiche non segue la logica del buonsenso e del comune accordo tra tutti c'è sempre in qualche modo qualcuno che deve prevaricare sull'altro e inevitabilmente questa cosa porta allo scopo delle guerre anche questo è un motivo dello scopo della guerra in Ucraina per quanto riguarda invece l'avvicinamento della Russia alla Cina una cosa che avrete sentito dire molte volte è che questa cosa costituisce un grosso suicidio per la Russia un grosso fallimento anche una grossa umiliazione perché perché si vanno a legare con un popolo verso cui non hanno tutta questa considerazione perché i russi non hanno grande rispetto e considerazione dei cinesi in maniera in qualche modo subordinata piuttosto che avere rapporti con l'occidente ecco questo ci porta all'ultimo secondo me importantissimo motivo che sta alla base di questa guerra e cioè le motivazioni morali culturali e in qualche modo anche religiose che stanno alla base di questo conflitto se uno scava parecchio all'interno della cultura russa ci trova inevitabilmente un'anima cristiano ortodossa e non c'è nessuna cosa che un ortodosso tema di più rispetto al proprio sistema di valori culturali dell'assimilazione cioè di vedere la propria cultura scomparire nel momento in cui si fonda un'altra che in qualche modo gli assomiglia ma che in realtà profondamente diversa e che in virtù di queste somiglianze rischia di farla scomparire da questo punto di vista gli ortodossi di ogni tempo di ogni epoca e di ogni nazione sono sempre stati molto come dire molto attenti al confine col paranoico perché di fatto lo scisma stesso della chiesa ortodossa da quella cattolica era basato su questo cioè sulla non volontà di cedere a un'imposizione culturale che arrivava da occidente ora com'è che questa cosa può collegarsi ad oggi com'è che lo scisma del 1054 che peraltro è avvenuto a costantinopoli quindi in turchia sostanzialmente nell'odierna turchia anche se era impero romano d'oriente al tempo come questa cosa dei riverberi nella russia di oggi il punto ovviamente non è il contrasto religioso ma è l'eterno e mai risolto conflitto culturale tra l'oriente europeo e l'occidente europeo cioè tra un oriente europeo che in tutte le epoche in maniera diversa veramente è sconvolgente quando questa cosa si ripeta epoca dopo epoca ha sempre considerato l'occidente europeo come la roccaforte dell'immoralità della corruzione dei valori principali della società delle tendenze sataniche in qualunque modo questa cosa ai tempi dello scisma era una contesa sul primato papale sugli altri patriarchi oggi è una questione che viene ricalcata sulle tematiche di genere che in russia sono un argomento assolutamente centrale nel momento in cui si parla dell'occidente che come molte altre volte nella storia sfocia nel paranoico cioè sfocia bene al di là della della critica basata sul buon senso molti di voi avranno letto a pasqua dell'anno scorso quella notizia che riportava la frase shock del patriarca kirill della chiesa ortodossa di russia durante la predica della della messa di pasqua del 2022 a guerra appena iniziata dove diceva che questa era una guerra che si combatteva per mantenere i valori della nostra società ed era una guerra contro il gay pride ora quale persona dotata di buon senso può pensare che tutta questa guerra sia stata fatta iniziare per il gay pride era una frase delirante ok da molti punti di vista però non è delirante il substrato culturale che produce quell'esternazione mi spiego meglio la società russia di oggi osserva i valori della società anglosassone occidentale come una grandissima minaccia ai propri valori perché tutta questa apertura verso le le questioni di genere le questioni lgbt oppure la maternità surrogata tutte queste cose che hanno a che fare con l'etica in qualche modo anche con la religione e che da noi sono sempre di più un motivo centrale della discussione pubblica c'è sempre più apertura c'è sempre più secolarizzazione delle questioni legate alla sessualità alla famiglia alla maternità a tutti quegli argomenti che costituiscono la base culturale sociale e religiosa della società russa della società a base ortodossa mettiamola così ecco i russi vedono questa cosa come una profondissima minaccia proprio di natura spirituale l'altro giorno ho visto un regista mikhalkov che era un grande regista in cui in un'unione sovietica e che si è lanciato in discorsi completamente privi di senso sul fatto che in occidente tutte le famiglie obbligano i bambini a cambiare sesso cose di questo tipo è chiaro è evidente che ci sia un'enfasi assolutamente paranoica su questi argomenti da parte della società russa però qui non stiamo decidendo cose giuste cose sbagliato io non sto dicendo chi ha ragione chi ha torto vi sto semplicemente elencando le ragioni che portano allo scoppio della guerra e nel momento in cui la società occidentale con tutti i suoi valori buoni o cattivi inizia a minacciare di penetrare lo spazio storico della russia allora questa cosa per i russi è una minaccia stessa alla loro identità morale alla loro identità in qualche modo spirituale comunque la vogliamo declinare la ragione culturale e in qualche modo morale e spirituale che vede nell'oriente un conflitto secolare con l'occidente è una ragione importante all'interno di questa guerra ed è una ragione che diventa ancora più importante se la sommiamo a tutte quelle che vi ho detto prima che hanno portato essenzialmente alla rottura del dialogo della comprensione reciproca tra il mondo occidentale e il mondo orientale se uno poi va ad analizzare nel dettaglio la storia russa trova che questo pattern è costantemente ripetuto in una salsa diversa secolo dopo secolo quest'oggi 2022 la guerra in ucraina non è altro che l'ennesima ripetizione di un pattern di una dinamica che si è ripetuto molte volte nel corso dei secoli e a tal proposito fatemi commentare in chiusura di questo video una cosa veramente sconvolgente dal punto di vista dei corsi e ricorsi storici che riguarda proprio l'avvicinamento della russia alla cina cioè due entità culturali sociali politiche statuali che non hanno niente a che vedere l'uno con l'altro anzi sono hanno tutti i motivi per essere in conflitto l'uno con l'altro e che invece per qualche motivo finiscono per stringere questi accordi di estrema vicinanza di estrema amicizia almeno in apparenza poi vedremo negli anni a venire se noi andiamo negli anni in cui cadeva l'impero romano d'oriente intorno alla metà del 1400 scopriamo che all'interno di costantinopoli tutto il mondo ortodosso era diviso in due fazioni una fazione cosiddetta latino frona che sostanzialmente sosteneva di doversi unire ai propri fratelli cristiani d'occidente per essere più forti trovare dei punti in comune e proprio sulla base del comune terreno culturale cristiano eccetera anche politico perché l'impero romano d'oriente dopo tutto era estensione dell'impero romano d'occidente in tempi antichi quindi avevano molto più di più da condividere e quindi secondo questa corrente di fronte all'imminente minaccia dell'invasione musulmana aveva molto più senso avere a che fare con loro con i nostri fratelli cugini in qualche modo simili per combattere i musulmani che invece sono qualcosa di totalmente diverso totalmente alieno fondamentalmente eretico ai nostri ai nostri occhi ok invece l'altra corrente sosteneva che piuttosto che avere a che fare con gli occidentali con i latini era meglio avere degli accordi con i musulmani che ci stavano invadendo e che ci avrebbero verosimilmente creato una grande quantità di problemi perché questo quali erano i ragioni di quest'ultima corrente la ragione era proprio legata al terrore che hanno gli ortodossi in relazione all'assimilazione della loro cultura cioè se noi ci mettiamo insieme ai latini noi ci assomigliamo siamo simili e pertanto rischiamo di confonderci al loro interno mentre se noi ci mettiamo d'accordo con i musulmani che sono un qualcosa di completamente diverso da noi non c'è alcuna possibilità che noi ci mischiamo con loro resteremo sempre separati come l'acqua e l'olio come due cose che non possono mischiarsi tra di loro e non a caso fu quest'ultima corrente che prevalse nelle ultime ore dell'impero romano d'oriente il patriarca di costantinopoli pronunciò questa frase che in qualche modo possiamo prendere a simbolo di quest'ultimo discorso che vi sto facendo disse meglio il turbante dei turchi che la mitra dei cardinali se noi questa frase la trasportiamo a mosca che si considera depositare dell'eredità cristiana di costantinopoli e la trasportiamo ai giorni nostri allora meglio avere a che fare con i cinesi che avere a che fare con l'occidente corrotto satanista immorale pedofilo gay lgbt tutto quello che vogliamo a guida americana con cui abbiamo teoricamente più cose in comune dal punto di vista storico e culturale ma che rappresentano per noi un'enorme minaccia di perdere la nostra identità e in tutto questo l'ucraina come si colloca esattamente come terra storicamente in mezzo tra l'occidente tendenzialmente cattolico protestante e un oriente ortodosso dove all'interno dell'ucraina abbiamo una parte che vive essenzialmente i sentimenti culturali dell'ortodossia e una parte che vive i sentimenti culturali del cattolicesimo fino ad arrivare nel 1600 alla creazione di quel librido che poteva nascere solamente in ucraina veramente da nessun'altra parte del mondo della chiesa uniate cioè quella chiesa di rito orientale ortodosso ma di obbedienza occidentale cattolica un fenomeno questo che agli occhi della russia quando la religione contava molto di più all'interno della vita sociale e politica è sempre stata vista come un'eresia come un'enorme minaccia culturale oggi nel mondo moderno la religione non ha più tutta questa importanza non è che questa guerra inizia per un confronto tra cattolici e ortodossi però l'eco culturale che deriva da questo scontro millenario si manifesta oggi semplicemente nelle forme della modernità che nel caso specifico di questo fa di questa fase storica riguardano principalmente le questioni di genere tutte quelle altre cose che vi ho appena spiegato dunque ragazzi questo è tutto per questa pippone edition mi rendo conto che siamo stati anche piuttosto lunghi però c'erano tante cose da espandere e probabilmente su alcune di esse sono stato anche forse troppo sintetico dal mio personale punto di vista tutte queste motivazioni che vi ho raccontato se voi le prendete singolarmente non sono sufficienti a far partire una guerra sono come un'enorme tannica di carburante che piano piano si va a sommare con altre influenze diverse il carburante non prende fuoco di per sé ha bisogno di una scintilla e ha bisogno di alcune condizioni ambientali intorno perché appunto il carburante di per sé non prende fuoco prendono fuoco i vapori del carburante che si liberano solamente a una certa temperatura ok se mi passate questa metafora benzinica diciamo capite bene come la guerra non è il frutto di uno solo di questi elementi non è frutto della foglia di putin non è frutto della cattiveria americana non è frutto della nato non è frutto della cultura di tutte quelle cose che vi ho detto è frutto dell'insieme di queste cose dell'infelice circostanza in cui tutte queste cose si sono trovate a convergere verso un unico punto in condizioni ambientali tristemente favorevoli dove la scintilla è scoppiata con una facilità impressionante talmente facile che molti di noi io per primo faccio mea non credevano che fosse possibile che sarebbe esplosa io vi ringrazio moltissimo per avermi ascoltato spero che sia stato di vostro interesse soprattutto che sia stato utile fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e noi ci vediamo al prossimo video